Buongiorno a tutti, sono Big Luca e sono un online marketer che lavora appretamente nel mercato americano, sono da poco apportato in Italia. Quest'oggi vi vorrei parlare di Silvia Galati o The Online Girl Boss, lei è estremamente brava e competente nel settore dell'affiliate marketing e se state cercando un'opportunità di business e volete fare business online, specialmente nel settore delle affiliazioni di tipo high ticket, vi consiglio di parlare con The Online Girl Boss, ha studiato molto nel settore americano con i più grandi formatori, mi risulta essere anche l'unica ragazza italiana ad essere entrata nel 2Com, a club di Russell Branson, quindi diciamo che è una persona estremamente competente, quindi se vi interessa il discorso dei business online, specialmente per le affiliazioni, non mettetevi in mano a gente che non sa quello che dice, mettetevi in mano The Online Girl Boss che sicuramente sa ciò che sta facendo, è partner della stessa azienda di cui sono partner io, quindi non posso far altro che consigliarvi The Online Girl Boss.